Di questi tempi sento spesso dire che noi italiani siamo ultimi, alla televisione si sente sempre, siamo ultimi come livello culturale, siamo ultimi come libertà di informazione, siamo primi come debito pubblico e quindi ultimi, siamo ultimi in ogni cosa. Beh, io non sono tanto d'accordo con questa concezione dell'italiano, io invece credo che noi italiani siamo i primi, siamo i primi in assoluto, perché noi abbiamo inventato tutto, tutto, a partire dalla finanza, il sistema finanziario, oggi centralizzato a Wall Street, a Londra, oggi si fa tanto parlare di Bitcoin, Blockchain, il sistema finanziario l'abbiamo inventato noi, a Firenze, quando i mercanti fiorentini avevano costituito le prime banche e nel 1500 a Firenze c'erano più di 80 banche e prestavano soldi a tutti, a tutti i papi, a tutti gli imperatori d'Europa. La più grande potenza del mondo, l'America, l'ha scoperta un italiano e un altro italiano gli ha dato il nome, addirittura, all'America. Abbiamo costruito i primi acquedotti, le prime strade del mondo, le abbiamo costruite noi. Per non parlare dell'arte, la poesia più bella del mondo, la più bella, la Divina Commedia l'ha scritta un italiano e poi poeti contemporanei, senza pari, Aldamerini, Zanzotto, gente che nessuno eguaglierà mai. La pittura, il più bel quadro del mondo, il quadro di riferimento, la Gioconda l'ha dipinto un italiano. L'architettura, l'architettura, la più bella cupola di tutti i tempi, è quella del Brunelleschi, tutt'ora ineguagliata, un italiano e anche architetti moderni, Renzo Piano, uno dei più grandi architetti del mondo, è italiano. La musica, il cantante lirico più grande del mondo, Pavarotti, è un italiano. In Metallica a Torino fanno un tributo a Vasco Rossi e poi c'è Fabrizio Di Andrei, potrei stare qui ore. E nello sport, l'unica sciatrice ad aver vinto tre medaglie olimpiche, si chiama Deborah Compagnone ed è un'italiana e abbiamo Valentino Rossi e Roberto Baggio, ma ce ne sono centinaia, pantani, centinaia e centinaia di vittoriosi, di primi. La stretta di mano, l'abbiamo inventata noi nel Medioevo per mostrare che le nostre mani non erano armate. E tutto il mondo a stringersi la mano, ma per citare un'altra sciocchezza, il cambio della bicicletta, il cambio a bacchetta, l'ha inventato Campagnolo. E questo non accadeva solo nel passato, ma tutt'oggi abbiamo costruito e continuiamo a costruire le più belle auto del pianeta. Abbiamo disegnato e continuiamo a disegnare i più bei abiti del pianeta. Abbiamo cucinato e continuiamo a cucinare i cibi più buoni del pianeta. E tutto il mondo ce li copia. Anche la forma di questo nostro benedetto paese è la più bella del pianeta. Perché è uno che guarda il mappamondo, dove vuoi che vada se non in Italia, che è l'unico paese a avere la forma di una bellissima stivale. E allora, visto che questa nostra Italia è sparpagliata nel mondo, noi dobbiamo imparare ad amarla di nuovo. Perché amare l'Italia significa amare tutto il mondo. E se c'è una ricetta per uscire da questa crisi di cui tanto si parla, questa ricetta come primo ingrediente è quello di recuperare la fiducia in noi stessi. Ed è ora di smetterla di sentirci ultimi. Quasi quasi che quando andiamo all'estero ci sentiamo quasi in difetto. Noi non siamo in difetto per nulla, perché la gente altrove ci ama e ci ammira tantissimo anche se noi non abbiamo questa percezione. Ed è ora di smetterla che in televisione tirino fuori il peggio degli italiani, facendoci credere, convincendoci, cosa ancora peggiore, che noi siamo gli ultimi. Perché non lo siamo. Anzi, siamo i primi e proprio per questo motivo qualcuno che ha interesse ci vuole far credere che siamo gli ultimi incapaci di votare, incapaci di scegliere, incapaci di fare ogni cosa. Ma la realtà non è questa. La realtà è opposta. Perché noi italiani lavoriamo con il cuore. Ed è per quello che tutti i prodotti che l'Italia ha costruito nei secoli sono prodotti di cuore, sono prodotti empatici, sono prodotti che hanno conquistato l'intero pianeta. Questa è la realtà.